L'Atalanta ha ufficializzato un nuovo acquisto che arriverà quest'estate e stiamo parlando di Sed Kolasinac, giocatore che conosciamo, magari qualcuno non lo conosce e poi adesso ve ne parlo nel corso del video, Sed Kolasinac, giocatore bosniaco, giocatore di esperienza europea internazionale, ha giocato sia in Bundesliga, in Premier League, in Ligan, veramente con un panorama calcistico molto importante, l'Atalanta affonda questo colpo di esperienza importante, sarà lui il nuovo esterno barra centrale nella difesa 3 dell'Atalanta che vedremo la prossima stagione. Ciao ragazzi e bentornati in questo video, qui è già per oggi, siamo qui ragazzi in un nuovo video appunto qui per parlare di calcio mercato ragazzi, questa notizia è arrivata praticamente ieri, oggi diciamo che in settimana dovrebbero arrivare anche le visite mediche, circa tra martedì e mercoledì ci sarebbero le visite mediche con la firma del contratto, ma l'Atalanta ha ufficializzato questo acquisto che arriva appunto difensore che arriva dall'Olympic Marsiglia, giocatore di 30 anni, adesso ve ne parlo prima un mi piace per supportare questo video, un commento di una vostra, cosa ne pensate, lo conoscevate, ditemelo qua sotto nei commenti, se siete nuovi iscrivete al canale, attivate la campana per rimanere sempre aggiornati e ovviamente recuperate i discorsi video, lo trovate qua sotto nelle schede a fine video e seguitemi sui social, instagram, piattaforma viola, tiktok tutti quanti i link che trovate sotto nella mia descrizione. Allora andiamo a parlare di chi è Kolasinac, Kolasinac è un giocatore in classe 1993, quindi 30 anni suonati diciamo, è un difensore bosniaco che vanta di diversi trascorsi in varie big, diciamo in varie squadre, nei vari campionati maggiori europei, quindi con lo Shaq 04 dove c'è praticamente dove è esploso in Bundesliga, poi è passato clamorosamente all'Arsenal, lì anche ha fatto molto molto bene, poi negli ultimi stagioni all'Arsenal aveva perso un po' di brillantezza e quindi è stato poi ceduto, nelle ultime due stagioni l'ha fatta in Francia, in Ligane appunto all'Olympic Marsiglia, dove è stato impiegato laterale in una difesa a tre però, diciamo lui nasce come terzino, è un po' diciamo tra virgolette simil Kolarov, tra virgolette, come tipologia di difensore, ecco giusto per farvi un esempio, un paragone, diciamo un Kolarov bosniaco tra virgolette, perché c'è un piede mancino che è formidabile il suo piede mancino e poi buona stazza fisica, quindi è alto comunque 1,83 m, quindi buona stazza fisica, quindi può fare anche il centrale in una difesa a tre, il braccetto a tre come laterale mancino, sia da terzino ma anche nel braccetto a tre come laterale, per esempio a sinistra, perché ovviamente lui è il piede suo, e diciamo che lui è tedesco, cioè di nazionalità, è tedesco ma ovviamente di nazionalità bosniaca, però è nato in Germania ma nazionalità bosniaca, ovviamente ha giocato tanti anni in nazionale pure con la Bosnia, sempre titolare con la Bosnia, ovviamente, e diciamo che quest'anno lui ha praticamente totalizzato 41 presenze nelle varie competizioni tra campionato, Coppa Francese e appunto anche Coppa Europea, ha realizzato 4 gol e un assist, quindi non malissimo per essere un giocatore che comunque è un difensore centrale, comunque ha realizzato 4 gol e un assist, è un buon bottino, no? E diciamo la sua carriera lui inizia praticamente giovanissimo, già esplode praticamente inizia nel 2001 proprio nelle giovanili dello Schalke 04, appunto lui è nato in Germania, quindi è iniziato proprio dalla Germania, dove passa 9 anni all'Hofnheim e poi negli altri 2 anni allo Stoccarda, quando era giovane, per poi definitivamente rientrare nella casa madre, ovvero nello Schalke 04, dove praticamente ci ha giocato dal 2012 al 2015 e poi questo nella squadra B dello Schalke 04 e poi in prima squadra dal 2015 al 2017 nella prima squadra e nel frattempo ha avuto un brutto infortunio al ginocchio e rimane fuori per circa 9 mesi all'incirca, poi dopo 5 anni che è stato appunto allo Schalke 04 lascia la Germania per volare appunto dai Gunners appunto all'Arsenal, dove lì praticamente non gioca sempre titolare, lui gioca soprattutto da terzino, anche se fisicamente ha una stanza più da centrale che più da terzino, diciamo terzino difensivo, non tanto offensivo, cioè sa fare ambi le fasi e vince con appunto con i Gunners, con l'Arsenal vince un FA Cup e due Community Shield e praticamente riesce a imporsi per ben tre anni e poi dopo tre anni lascia l'Arsenal, quindi torna nel 2020, torna allo Schalke 04 in prestito ma rimane praticamente solamente un anno e poi lascia appunto, ovviamente perché lo Schalke non lo riscatta quindi lo rispedisce all'Arsenal, per poi definitivamente va appunto a giocare al Marsiglia, all'Olympic Marsiglia in Francia, dove praticamente ci passa le ultime due stagioni, sono due anni che sta lì e poi adesso l'ho acquistato proprio a parametro zero l'Atalanta che secondo me fa un colpaccio pazzesco perché veramente a parametro zero veramente tanta tanta roba, diciamo che il suo valore di mercato sono circa 8 milioni di euro, sul mercato, sul transfer market vale 8 milioni di euro, l'Atalanta che lo prenderà appunto a parametro zero con la scadenza del contratto, diciamo che lui non si sanno ancora le cifre dello stipendio che prenderà l'Atalanta ma lui nell'ultima stagione appunto, negli ultimi due anni al Marsiglia come stipendio prendeva 2 milioni e 100 circa di, non lo so adesso quanti, precisamente quanti milioni stiamo parlando, prendeva 2 milioni e 100 di sterline, quindi in euro sarebbero tipo 2 milioni e 4, vediamo poi, le cifre ancora non sono ufficiali di quanto prenderà il stipendio, però comunque arriverà a parametro zero, questo è sicuro. Caratteristiche tecniche del giocatore, lui è un giocatore tatticamente molto d'utile perché come ha detto può giocare sia, metti caso Casperini, voglia giocare con la difesa 4, giocherà come terzino sinistro o altrimenti una difesa 3 dove l'ultimi anni ha giocato ovviamente da centrale nella difesa 3, con l'Arsenal soprattutto, giocava molto tutti, si può adattare in vari ruoli perché può volendo anche giocare come esterno a tutta fascia, anche se rende meglio ovviamente da terzino o da centrale e può giocare delle volte ha giocato anche come terzino destro, però lui ovviamente è un mancino, quindi è il suo ruolo migliore ovviamente, quindi diciamo nella difesa, l'ultimo anno diciamo ha giocato prevalentemente da terzino puro al Marsiglia, ha giocato da terzino sinistro, all'Arsenal invece è difensore centrale a sinistra. Si adatterà appunto quest'anno con l'Atalanta perché l'Atalanta come sappiamo tutti gioca con Gasperini di norma, gioco con la difesa 3, quindi lui giocherà ovviamente laterale sinistro, forte fisicamente, quindi nei contrasti è molto elegante, cioè come palla al piede è abbastanza elegante, però ecco c'è al sinistro che è potente e bravo anche sui calci piazzati, cosa molto importante da dire sulle punizioni, anche se dall'altra parte c'è Kupmejnez che è veramente bravo pure lui a attire le punizioni, forte fisicamente e bravo con entrambi i piedi, palla al piede e i cross e tanti assist ragazzi, un difetto ha un carattere piuttosto irrascibile, è un giocatore che tende a prendere i cartellini, quindi è un giocatore un po' da quel punto di vista, è un giocatore che un po' si fa trascinare dalla partita diciamo che è piuttosto irrascibile, quindi ogni tanto prende qualche giallo di troppo, qualche rosso, però comunque le qualità non si discutono. Come giocherebbe appunto all'Atalanta, sappiamo tutti come gioca, l'Atalanta gioca la difesa a tre, lui principalmente giocherà da laterale, da centrale nel bracetto a tre a sinistra, quindi al posto di Jim City, però sappiamo tutti che Gasperini spesso cambia modulo e ovviamente da terzino a sinistra è il suo ruolo migliore, però può giocare volendo anche in fase avanzata come esterno di Mancino, quindi Zappacosta a destra e Colasinac a sinistra, oppure Mela a destra e Colasinac a sinistra, sappiamo tutti che Atebur non rimarrà all'Atalanta. E poi vabbè ci sono altri due giocatori sul quale è interessata l'Atalanta, ma questi sono più difensori centrali, stiamo parlando di Eien, però non è ancora ufficializzato, quindi per il momento ho parlato quest'oggi di Colasinac. Fatemi sapere se lo conoscevate qua sotto con un commento, lasciate un mi piace, iscrivetevi, da Giappesi è tutto e noi cominciamo al prossimo video, dai ragazzi sempre comunque forse il calcio, lo conoscevate? Ditemi qua sotto, iscrivetevi, ciao!